Doppio appuntamento al Red Bull Ring per quanto riguarda il moto mondiale dopo una settimana infatti si replica ancora una volta sul circuito della casa austriaca di Formula 1 e sono chiamati tanto i valori in campo soprattutto in una MotoGP che ha regalato una gara spettacolare con il set però altresì dal diluvio universale che si è abbattuto proprio sul circuito di Zeltweg a partire dagli ultimi 5-6 giri la vittoria partiamo dalla fine va a un pazzo furioso al scatenato Brad Binder che facendo una pazzia e un'impresa al tempo stesso si aggiudica la sua seconda gara in carriera per quanto riguarda la MotoGP Binder riesce a tagliare il traguardo per primo su pista bagnatissima dove si faceva veramente fatica a stare in piedi e in pista con le gomme d'asciutto lui è riuscito a fare questo azzardo che ha pagato in realtà e si porta a casa 25 punti insperati per la gioia peraltro di KTM dunque casa austriaca che vince nella pista di casa il podio è completato peraltro da due piloti diversi del mondiale uno quantomeno Francesco Bagnagna l'altro è Orge Martin che è alla ribalta in questi periodi visto che appunto la settimana scorsa ha vinto e ha fatto pure a sto giro la pole position in qualificazione è stata una gara veramente pazza che in realtà fa felice soltanto Francesco Bagnagna perché appunto il pilota piemontese va ad accorciare sia su Zarco caduto in gara sia su Fabio Quartarò che invece non ha fatto l'azzardo diciamo di Binder è andato a cambiare le gomme come la gran parte dei piloti che vedremo in classifica nelle parti basse della zona punti Binder invece l'azzardo non l'ha fatto e regala agli spettatori uno spettacolo seppur appunto visto come un'impresa folle perché io ho visto gli ultimi giri poi con i piloti rimasti in pista con le gomme da asciutto e veramente andavano come se ci fossi io in moto ovvero un totale amatore ma era giusto così perché evidentemente su pista bagnatissima bisognava andare a passo duomo e qui appunto con i piloti che andavano veramente tanto piano vedi per esempio i vari Valentino Rossi, Iker Lecuone, Alessia Spargarò che erano dunque rimasti in pista con le gomme da asciutto venivano su invece i piloti con le gomme da bagnato quindi vari Bagnaia, Martin, meno in realtà Miller, Claccio e Quartarò perché comunque hanno cambiato le gomme prima di questi piloti ed effettivamente l'azzardo ha pagato meno per i loro piloti e dunque abbiamo visto per un tratto della gara piloti che non avevano chance di vincere fino a un secondo prima provare ad attentare alla vittoria se non al podio alla fine risuona in cose sicchiali di Africa lì nazionale sudafricano per Brad Binder che si giudica 25 punti insperati che comunque lo issano al sesto posto del campionato assoluto ed è una signora prestazione per un gran bel pilota perché Binder di certo non è un diciamo pilota fermo è un pilota che vinse già un mondiale Moto3 dominando gli avversari in Moto2 anche lì ha fatto le sue belle figure e MotoGP ha già vinto e ha fatto dei podi e qui arriva la prima vittoria della stagione nella gara di casa per KTM sesto posto che peraltro va a scavalcare Maverick Vignales di cui sapete sicuramente la storia è stato di fatto appiedato per questa gara da Yamaha vista la grande reazione troppo vehemente di Vignales al termine della prima gara dove si è ritirato ha fatto semplicemente esplodere un motore cosa che diciamo in casa di Yamaha non hanno propriamente ben gradito e dunque sospeso per questa gara Yamaha che può contare di fatto soltanto su Fabio Quartarò che appunto in condizioni normali era a giocarsi la vittoria con Marquez e con Bagnaia le altre Yamaha hanno fatto veramente fatica poi la pioggia ha ristratto un po' le carte ma la cosa di Vignales è abbastanza evidente rottura netta con la cosa del 3 di Abbason si parla appunto che Yamaha appunto abbia preso Morbidelli per la stagione 2022 visto che appunto Vignales andrà in aprile ad affrancare Alessio Spargarò un Alessio Spargarò che peraltro poteva rischiare il podio per l'Aprilia peccato che appunto come dicevo prima nell'ultimo giro della gara di Styria era impossibile stare in pista in condizioni normali con gomme da asciutto dio grazie che Vindra aveva un'eternità di vantaggio e ha potuto gestire un ultimo giro oltremodo problematico perché appunto come raccontavo in precedenza le moto andavano letteralmente a passo duomo podio che comunque vede un riavvicinamento di Bagnaia con il secondo posto che va a riscattarsi dall'undicesimo della gara precedente Bagnaia con questo accorcia su Quartarò che comunque è finito settimo anche Quartarò aveva le gombe da bagnato così come aveva le gombe da bagnato Jorge Martin che appunto in questa pista austriaca si è trovato veramente da dio due propositions consecutivi una vittoria e due podi veramente doppio weekend da favola per Martinator che ha dimostrato di essere ancora una volta un piatta di talento puro anche lui è un former campione di Moto3 e sarà un pilota che sarà da tenere d'occhio tantissimo l'anno prossimo quando riuscirà a fare una stagione completa perché quest'anno ha saltato quattro gare è un mondiale che per la verità è ancora indirizzato perché Quartarò ha moltissimi punti di vantaggio su Bagnaia sono 181 contro 134 di Bagnaia e anche Mirre che comunque fa anche lui una buona prestazione e si isa al secondo posto ex equo appunto del campionato del mondo con appunto il solito quarto posto di Costanza Mirre sta facendo il mondiale che ha fatto l'anno scorso l'unica differenza è che qui c'è un vincitore un po' più chiaro e probabilmente un pilota da battere ovvero Quartarò che ripeto sta facendo un po' come faceva Marquez con la Honda quindi guida sopra i problemi di un Yamaha che con lezioni da asciutto ha parecchi limiti le altre Yamaha appunto dicevo Vignales non era neanche partito Rossi e Craccio erano finiti già dopo la musica in partenza la pioggia poi ha rimescolato i valori in campo ma ciò non toglie che la Yamaha non è la miglior moto in pista probabilmente Quartarò è uno dei migliori piloti in pista se non il migliore sicuramente a numeri lo è e appunto è lui il pilota da battere e Bagnaia e Mirre devono fare i miracoli per soffiargli il titolo del mondo a mio modo di vedere Zarko purtroppo si ritira e rimane comunque al quarto posto del campionato del mondo Zarko sta abdicando diciamo al ruolo di contender del mondiale per Quartarò vedo più la lotta tra Bagnaia e appunto il francese vedremo cosa poi ci riserverà il resto del calendario della MotoGP andiamo a vedere poi gli altri piazzamenti perché comunque qualche sorpresa c'è stata ma appunto è figlio soprattutto della pioggia che ha rimescolato tantissimo i valori in campo e molti piloti che hanno cambiato le gomme appunto prima che venisse giù il diluvio universale sono finiti dietro da tanti piloti che invece sono rimasti in pista con le gomme di asciutto Di Binda abbiamo già detto ha vinto ma finisce quinto Luca Marini miglior risultato in carriera per il fratellastro di Valentino Rossi che appunto con la pioggia sfrutta questo ribaltamento di pronostici questo diciamo cambiamento di carte in tavola e si porta a casa punti importantissimi per il suo campionato esperienza anche per Luca qui sul bagnato sesto Iker Lecuona giovanissimo pilota di KTM per il quale peraltro non ci sarà più spazio nel team Tektroa visto che appunto lo stesso team avrà ingaggiato per l'anno prossimo Raul Fernandez che comunque due cose discrete le ha fatte anche oggi ma di quello ne parleremo settima posizione abbiamo già detto per Fabio Quartarò che diciamo limita i danni nonostante appunto il cambio gomme probabilmente non così puntuale ottava posizione per Valentino Rossi che comunque riesce a portare al termine la gara con delle condizioni precarie di gomme visto che appunto anche lui correva su pista bagnata con gomme da asciutto e dunque anche in questo caso c'è un riso d'allevamento per la sua stagione non ha posizione per Alex Marquez con la onda del team di Lucio Cecchinello e finisce in decima posizione Alex Espargarò che praticamente fino a tre curve dalla fine era di fatto sul podio in seconda posizione e poi deve abdicare considerato che appunto anche lui aveva le gomme da asciutto e i piloti con le gomme Rain avevano letteralmente una trazione tripla rispetto a Espargarò e di conseguenza ecco spiegato il decimo posto del pilota spagnolo che qui peraltro correva da solo visto che appunto non c'era Lorenzo Salvadori operato con successo a Parma come raccontavo e che tornerà verosimilmente per il campione di Silverstone che ci sarà tra due settimane per quanto riguarda il moto mondiale un moto mondiale che dunque ha regalato in questa gara di Austria due appunto spettacoli ed emozioni già la gara era bella di per sé perché c'era appunto la lotta tra Quartarò e Marc Marquez che incredibilmente sembrava a suo agio su una pista non sinistrosa e dunque con il braccio infortunato sotto sforzo era difficilissimo vederlo competitivo e invece era competitivo e Bagnaia che dunque stava comunque tenendo viva la tradizione delle Ducati vincitrici che qui si interrompe per KTM è comunque un altro podio per la Ducati dubbio in realtà perché appunto c'è Orga Martina appunto come dicevo la MotoGP tornerà a Silverstone tra due settimane per il Game Premio di Gran Bretagna così come le altre categorie di cui andremo a parlare tra poco non prima però di aver dato le assegnazioni dei premi come al solito in una MotoGP che ha visto soltanto 20 partenti in questa gara di Austria per via delle tante defezioni il rider del giorno però per me è Binder perché solo per l'impresa che ha fatto per aver dimostrato di avere due palle così merita veramente le celebrazioni anche del mio caso ripeto Binder è un pilota che a me piace in realtà tende spesso all'aggressività ma è un pazzo scatenato che spesso fa gli azzardi e a volte appunto gli azzardi vengono premiati come appunto in questo caso con questa vittoria con 9 secondi di vantaggio su piloti che avevano cambiato appunto la moto a differenza sua che invece ha continuato ad andare pur salvaguardando quello che poteva salvaguardare nell'ultimo giro c'è comunque una delusione del giorno a mio modo di vedere e lo troviamo evidentemente in Jack Miller perché Jack Miller ancora una volta fa una gara deludente soprattutto considerato rispetto al suo compagno di squadra se Bagnaia nella scorsa gara di Austria diciamo appunto aveva dimostrato pur avendo dei problemi di non gestire evidentemente una gara competitiva Miller qui è vero paga l'azzario delle gomme da bagnato cambiate molto prima e di conseguenza non un impiazzamento ottimale ma Miller anche di base in condizioni normali non era neanche lontanamente paragonabile al suo compagno di squadra che evidentemente era in testa e poteva evidentemente giocarsi la vittoria e dunque anche per Miller ci sarà un attimo da resettare tutto in vista del finale mondiale Miller è già fuori dal titolo del mondo matematicamente no però comunque verosimilmente per questa stagione evidentemente ci sarà tanto lavoro da fare per Ducati qualora con questa squadra giovane non si arriva al titolo del mondo quest'anno ma sicuramente per gli anni a venire passiamo adesso alle altre categorie dicevamo in moto 2 Raul Fernandez continua a fare cose discrete per usare un eufemismo vince la gara di Austria e di fatto accorcia in testa al mondiale che appunto Remy Gardner non riesce ancora una volta a capitalizzare qui l'australiano non riesce in realtà ad arrivare oltre la settima posizione ne approfitta Raul Fernandez che fa una gara veramente sontuosa che di fatto comanda dall'inizio alla fine è stata di fatto una lotta a tre sempre se di lotta si può parlare tra Raul Fernandez a Iugura anche lui sorprendente secondo e Augusto Fernandez ma nessuno dei tre piloti aveva un passo straripante erano tutti e tre piloti in linea con lo stesso passo e di conseguenza per questo motivo i tre piloti sono arrivati nell'ordine che appunto vi ho raccontato con la quarta vittoria in campionato di Fernandez che appunto fa risuonare la marcia reale per appunto un accorciamento del mondiale su Garner che invece è arrivato settimo invece l'australiano in colore rispetto alle gare precedenti seconda posizione appunto abbiamo detto per Iugura che fa una signora prestazione primo podio della carriera per il giapponese che è vice campione mondiale di Moto3 in carica battuto da quell'Albert Arenas che in realtà ha subito molto di più rispetto a Ogura il passaggio in Moto2 e lo vediamo Arenas occupa la diciottesima posizione del campionato del mondo Moto2 mentre Ogura è ottavo con un podio adattivo mentre Arenas finisce after the music il più delle volte c'è il secondo podio consecutivo dicevamo per Augusto Fernandez terzo in realtà che si sta riscoprendo quel pilota di talento che abbiamo visto nelle varie categorie propedeutiche che comunque si diceva veramente un gran bene e le gare di Olanda e Austria le doppie gare di Austria hanno evidenziato una crescita del pilota del team Mark VDS che prima aveva in Sam Lawson di riferimento adesso probabilmente ha due moto competitive perché anche Lawson ha fatto quarto oggi ma probabilmente non per giocarsela per il titolo del mondo a pieno è comunque bello vedere un team di questo livello tornare nei punti e nei posti che contano il migliore degli italiani a sto giro è Celestino Vietti che fa una sesta posizione di tutto rispetto conferma la sua crescita e conferma il risultato delle gare precedenti per quanto riguarda gli altri italiani a punti abbiamo Arbolino che finisce tredicesimo abbiamo Di Gian Antonio che anche lui centra l'ennesima per la punti seppure punti bassi della classifica delude molto dal mio modo di vedere Marco Bezzecchi perché il giro di una settimana passa da primo a decimo e qui non aveva veramente le condizioni e il passo per gestire una vittoria evidentemente gara in colore ed è un peccato perché è un roller coaster abbastanza evidente tra le due gare di Austria visto che probabilmente sono cambiate le condizioni è vero tra una gara e l'altra però una prestazione così in colore non ce la si spetta da chi comunque è terzo nel campionato del mondo tutti gli altri italiani come al solito After The Music non finisce After The Music invece Sergio Garcia che vince la gara di Moto3 di fatto rifacendosi dalla gara scorsa dove di fatto ha lottato tutta la gara con Acosta è caduto pure all'ultimo giro ed è arrivato comunque secondo al traguardo qui di fatto la vince di fatto involata e accorcia anche lui per quello che si può accorciare in un mondiale Moto3 che a differenza magari di altri titoli del mondo di altri anni è evidentemente già chiuso verso Pedro Acosta che comunque limita i danni e finisce quarto Garcia fa ricionare anche per lui la marcia reale terza vittoria per il pilota della Gas Gas seconda posizione per Denis Honku che di fatto torna sul podio dopo aver buttato via di fatto la prima gara di Austria arriva alla seconda posizione per il fratello di Jan che corre in Super Sport 600 terza posizione invece per Denis Foggia che comunque si conferma uno dei pochi italiani competitivi di questa categoria insieme a Romano Fenati i nostri due migliori portacolori sono finiti terzo e quinto Foggia non potrà competere per il mondiale è evidente perché sono quasi 100 i punti di distacco ma in realtà la verità è che nessuno praticamente può competere con Pedro Acosta in generale è vero che Acosta oggi è finito quarto ma mi ha dato l'impressione veramente di gestire la gara come quando voleva certo Acosta oggi non ha vinto ma comunque sono 196 punti contro i 155 di Garzia che comunque ha diciamo un margine abbastanza evidente in ottica titolo del mondo della Moto3 che comunque ha regalato una bella gara è stata una gara che non ha visto il gruppone di 25 piloti come al solito erano in 6-7 a giocarsi la vittoria quindi probabilmente spazio a più tatticismi e più strategie e comunque salutiamo la vittoria di Sergio Garzia ripetiamo terza stagionale c'è stata anche la MotoE come ultima categoria e con questo chiudiamo il Racing Podcast una MotoE che è arrivata al terzo ultimo puntamento stagionale e vediamo qui la prima vittoria in generale in carriera di Lukas Tullovic pilota giovanissimo classe 2000 tedesco che aveva già concretizzato con una buonissima qualificazione sia qui ma anche nell'ultimo Gran Premio però non è mai riuscito a portare a casa la vittoria piena e riesce a gestirla con veramente un passo molto molto interessante in una gara che è stata corsa dopo la MotoGP quindi con condizioni diciamo bagnate e dunque suona per Lukas Tullovic il canto dei tedeschi il suonino nazionale è un campionato che vede Alessandro Zaccone ancora una volta in testa al mondiale ma con meno punti perché Eric Granado di finisce davanti e fa secondo il brasiliano 73 punti per Granado 80 per Zaccone ed è podio per il brasiliano mentre Zaccone finirà sesto terzo è Dominic Gerter che è il leader incontrastato della Supersport 600 che qui invece ha 11 punti di distacco da Alessandro Zaccone sarà un campionato del mondo MotoE che in realtà è più chiamarla Coppa del Mondo come termine corretto che avrà gli ultimi due round a Milano Adriatico in un'assegnazione di 50 punti complessivi e dunque è evidente che ci sono 3-4 piloti ancora in lotta per la terza coppa del mondo di MotoE è un piacere vedere un italiano al comando questo Alessandro Zaccone che è al secondo anno in MotoE che dovrà però difendersi da grandi esperti di categoria come appunto Granado e Torres e soprattutto anche Egerter che appunto come stiamo vedendo sta facendo veramente tante belle cose velocemente gli altri italiani ottavo Matteo Ferrari che comunque fa un'ottima gara ancora una volta peccato non aver capitalizzato così tanto la prima fila in qualificazione Mattia Casadei non era presente l'hanno istituito con Stefano Valtulini che ha avuto un passato nel Mondiale Moto3 e anche lui pronte via finisce a punti quindicesimo gli altri italiani Kevin Zannoni finisce no non migliori stato della carriera per quanto riguarda Zannoni in MotoE undicesimo Andrea Mantovani pilota che ricordiamo proviene dal Nationals della Superbike solita parentesi che mi tocca fare Maria Herrera a sto giro non va a punti diciassettesima sul bagnato la pilota spagnola non ha evidenziato veramente le migliorie che aveva visto protagonista Maria appunto nelle ultime gare la rivedremo comunque a San Marino per il Gran Premio di Misano Adriatico che dunque si prende di fatto una pausa la MotoE per di fatto due weekend dove invece la MotoGP tornerà a Gran Bretagna e a Aragon per due Gran Premi che vedremo dove porterà Fabio Quartarò si allungherà in testa al Mondiale o ci sarà ancora un accorciamento dei punti da parte di Bagnaia Omir per un titolo del mondo che per il momento sembra più indirizzato verso la Francia ma chissà ci sono ancora tante gare a disposizione lo vedremo nei prossimi appuntamenti il prossimo Racing Podcast invece per quanto riguarda il mio canale sarà sempre domenica prossima alle ore 19 parleremo della Superbike che avrà il monopoglio totale perché correrà soltanto la categoria derivata della serie si correrà il Campobio di Navarra che è di fatto un esordio assoluto per la Superbike mi raccomando dunque appuntamento a domenica 22 alle ore 19 intanto fatemi sapere le cose impensate di questo appuntamento del moto mondiale e del Racing Post che ho di conseguenza e sono da parte di MetroTorgaard ci vediamo dunque prossimo video